Giuseppe Garibaldi, quale giudizio hai a vero su di lui? La cosa che più ci sorprende è che il giudizio del monarca del nuovo regno d'Italia su Giuseppe Garibaldi è molto severo. Se pensiamo tutto ciò che fece Garibaldi per la nascita di questo nuovo regno, sua moglie morirà giovane all'età di 27 anni e lui spesso rischierà la vita per la realizzazione del nuovo regno d'Italia. Il giudizio del monarca di questo nuovo regno è forse, a mio avviso, eccessivamente severo. Ciao, al prossimo video! Vi aspetto!